barzelletta del giorno c'è sta un negro alla fermata dell'auto che stava spetta all'auto a un certo punto un bianco gli fa a negru o sai perché hai i denti bianchi il negro gli fa no non uso perché dio quando ti ha pitturato sapi che hai la bocca chiusa negro dopo due minuti o sai perché hai gli occhi bianchi dice no perché dio quando ti ha pitturato stavi con la bocca chiusa e gli occhi chiusi il negro l'auto non passava negro lo sai perché hai le palme delle mani bianche no perché dio quando ha pitturato stavi con le mani addosso al muro il negro lo sai perché hai le piante di piedi bianchi no perché dio quando ha pitturato stavi chiusi i piedi per terra il frattempo passa l'auto il negro monta sull'auto prima che si chiude nelle porte bianco bianco che c'è lo sai tu perché c'è il culo nero no perché quando te l'ho buttato il culo la verdigio era ancora fresca è ancora fresca